...il suo colpo per defletterlo verso terra, quindi non lo assorbo, ma lo vado a colpire per mandarlo verso il basso. Quindi se lui arriva non faccio un assorbimento, ma vado a colpire per deflettere verso il basso. Questo è il primo modo dove io riesco a prendere bene il tempo. Nel secondo mi faccio solo scudo, quindi sono in ritardo, è come chiudersi, sono in ritardo come metto l'arma che non mi arrivi addosso. Ma l'idea, quindi, questo rimane qua, non devo lasciare la spalla, ma devo dire che ci metto per fare il movimento a scena. Ok? Quando ho fatto, subito verso la mano. Può essere qua, può essere qua. Ok? Non ci sono i cosmi bassi, perché, essendo vicino, appena ti va a farsi per prendermi le gambe, ti dico io. Quindi, lo spazio di lavoro sotto va dopo le gambe. Ok? Quindi, rimane qua. Non praticamente come si fa questo. Quindi, da dove è fatto, arriva sulla mano. Non che il tempo è troppo lungo. Quello non lo metterà qua. Quello sposto un po' di qua. Per ora senza colpire. Ok? Ci mettiamo a coppia. Uno tiene nel bastone, e l'altro in più che si ha colpito. Un po' di qua. E' un po' di qua. Grazie. 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 Grazie.